E' un agguato in piena regola quello che si è consumato ieri sera a Cesarea, frazione di Casalnuovo, Lembo di Terra, ai confini con la vicina cittadina di Volla, terra di Camorra, da sempre roccaforte del clan Rea Veneroso. Il cartello criminale intanto è in perenne conflitto con sodalizi avversi di Casalnuovo, Episcopo Gallucci Messina. E a finire sotto il tiro dei sicari sono stati Immacolata De Rosa, 62 anni, morta sul colpo, e suo figlio Clemente Palumbo, 34 anni, raggiunto da almeno due proiettili e trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è morto dopo poche ore. Nonostante la gragnuola di colpi esplose dal maldestro commando, che ha agito tra decine di pedoni a un discreto traffico, però nessuno si è preso la briga di lanciare l'allarme alle forze dell'ordine. L'auto sulla quale si trovavano Clemente Palumbo, colpito al collo e ad una spalla, e la mamma, fulminata da un unico colpo che le ha reciso l'arteria polmonare, è rimasta ferma sul marciapiede senza che nessuno si avvicinasse per alcuni minuti. Poi è arrivata la pattuglia dei carabinieri. Ora si attende il filmato della videosorveglianza di un bar della zona, che potrebbe aver ripreso tutto, anche sicari in azione. Gli inquirenti si sono trovati di fronte ad un muro di omertà ancora più impenetrabile, che preannuncia intanto tempi difficili e scenari rosso sangue.